un valore di fotolosi bella a tutti ragazzi sono arien ed in questo nuovissimo video che cazzo vi farò vedere come installare l'optifine su minecraft naturalmente sono con dio vabbè la tolta si chiama dio ora ha cambiato nome oh mi chiamo dio allora dicevamo per installare basta che ci clicca basta che avete installato java cliccate sull'optifine vi dice di aprirla con java voi fate apri dopo qui vi dirà di installarla mi pare esiste solo per l'1.6.4 e qui dice che appena verrà installata creerà un nuovo profile con optifine perciò installiamo ok è stato installato adesso prima minecraft ok ragazzi guardate qui già ha creato il profilo guardate release 1.4 optifine a questo punto facciamo play ok no qui dobbiamo ok anche senza user name di sotto me l'ha avviato quindi ragazzi mi ha buggato e adesso io entrerò in questo server andiamo nel mio corso vive negri ingrandiamo perché mi ha buggato spesso vediamo quanti fps abbiamo ed ho 57 fps per il caballo fai contro l'arian contro si che cos'è fai contro che cos'è questa cosa fai contro guarda è lo zoom ora esempio ragazzi provo a levare la condivisione che c'ho con skype vediamo se aumenta di tanto comunque ragazzi io perché c'ho computer potente perciò non mi cambia il lag c'è sempre lo stesso eh c'è ho 60 fps fissi cono senza registrando ce li ho sempre solamente nei menu cioè mi varia esempio guardate ragazzi provo a riaprire qua cioè mi pare dovrebbe essere solamente una volta che si installa vero? esempio qui vi editate il vostro fate relese adesso nuovo profilo facciamo play andiamo avanti e adesso io entrerò nel server questo e due secondi che metto la password non rompete il cazzo ok tanto non faccio vedere niente perché ragazzi una volta che sono entrato facciamo f11 così ce l'abbiamo tutto a zoom fatto bene vabbè ragazzi eh niente io per questo video è tutto eh ragazzi vi ricordo di iscrivervi e mettere un bel mi piace io questa optifine ve la metterò in descrizione l'importo basta che l'installate una volta e dopo oppure cancellarvelo intanto non occupa spazio quanto cazzo 400 kb per dire se volete la cancellate una volta che l'avete installate niente bella ragazzi rivedete di iscrivervi e mettete un bel mi piace un saluto da dio eccolo eccolo lui guardate si è chiamato dio lui vabbè bella e al prossimo video e al prossimo video e al prossimo video